Ore decisive per il futuro della Gilardoni Raggi X e per i suoi dipendenti. L'azienda di Mandello, specializzata nella produzione di sistemi di sicurezza, è stata amministrata negli ultimi otto mesi da Marco Gilardoni, figlio dell'ex manager Cristina, su disposizione del Tribunale di Milano. La donna, accusata di maltrattamenti e vessazioni nei confronti del personale, è stata allontanata dalla guida dell'azienda dai giudici a seguito dell'esposto per distruzione del valore di azienda, presentato dal socio di minoranza Andrea Ascani Orsini. Gli otto mesi di gestione giudiziaria sono scaduti a fine maggio. Il Tribunale ora deve decidere il da farsi. Le ipotesi sono tre, prorogare l'attuale nomina di Marco Gilardoni, chiedere ai soci di riunirsi e nominare un nuovo amministratore, oppure, a fronte dell'impossibilità di trovare un accordo, mettere la società in liquidazione. Questo il quadro, tanto delicato quanto complesso. Non bisogna dimenticare, infatti, che la manager allontanata e accusata di vessazioni è tuttora proprietaria della maggioranza delle quote della società. Il verdetto è atteso nelle prossime ore. Nel frattempo, FIOM CGL, Lecco e FIM CISL, Monza Brianza, Lecco, in una notte esprimono fiducia nell'operato dell'attuale amministratore Marco Gilardoni, che in questi mesi, scrivono, ha svolto il suo compito con impegno, perizia e competenza, riportando alla normalità la situazione in azienda sotto tutti i punti di vista. Ci auguriamo, concludono a nome degli oltre 100 dipendenti della Gilardoni Raggi X i sindacati, che dopo le dovute valutazioni il Tribunale possa dare il giusto segno di continuità, trovando una soluzione adeguata, che non contempli il ritorno di personaggi dal passato e che non vanifichi il lavoro fatto in questi mesi. Nel frattempo, esitata al prossimo 19 luglio, l'udenza sul fascicolo per maltrattamenti nei confronti dei dipendenti, dei quali devono rispondere fra gli altri l'ex manager Cristina Gilardoni e l'ex responsabile del personale Roberto Redaelli.